E' sui valori della Repubblica che dobbiamo fare leva, soprattutto oggi, per ispirare le nuove generazioni a credere nel futuro della nostra regione. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, in occasione delle celebrazioni per il 78esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, che si sono svolte a potenza alla presenza di autorità istituzionali, civili, militari e religiose. Cicala ha ricordato il coraggio e la visione delle donne e degli uomini che, con il referendum del 2 giugno 1946, scelsero la Repubblica ponendo le basi per un presente di libertà e democrazia. Quei valori sanciti nella Costituzione, ha proseguito Cicala, devono continuare ad ispirarci oggi mentre costruiamo il presente della nostra amata Basilicata. Dobbiamo riscoprire lo stesso spirito di determinazione e speranza che animò quella stagione. Cicala ha anche rivolto un appello particolare ai giovani, invitandoli a non rinunciare ai loro sogni e a lavorare insieme per rinnovare e credere nei propri valori e nelle proprie capacità. Il nostro passato dimostra che possiamo superare qualsiasi sfida. Insieme, ha detto Cicala, possiamo costruire una regione e un'Italia forte e unita, capace di guardare avanti con fiducia e speranza. Talvolta, ha aggiunto, emerge la sensazione che l'animo che tanto caratterizzò quella stagione si sia affievolito. Ci sono momenti in cui sembra che la Basilicata ceda alla rassegnazione e non creda più in un futuro migliore. Non dobbiamo arrenderci. Questo modo di pensare e agire non rende giustizia alla nostra storia e dalle potenzialità della nostra terra. Per onorare il passato e costruire un futuro prospero, dobbiamo rinnovare quell'esempio di sacrificio e dedizione. Grazie.